Caro nonno, voglio farti capire il lavoro che faccio, che è questo. Parlo e la gente mi ascolta. Non mi vedono, non mi conoscono, ma io fondamentalmente questo faccio. Parlo. E allora ci tenevo a fare un qualcosa per te. E' come se io suonassi e adesso stessi facendo una canzone a te dedicata. E secondo me, alla fine, capirai anche perché sono bravo in quello che faccio. Ora, l'altro giorno, quando siamo venuti a prendere il caffè, mi è scritto sul foglio «Vi penso sempre». Quel gesto mi ha profondamente toccato. In quel piccolo gesto messo su carta io ho visto qualcosa che forse, a voce, non avrebbe avuto lo stesso effetto. Anche io ti penso molto spesso, anche se non mi credi. Ma per me è diverso, perché io sono giovane. Ma quello che mi porto dentro sono le cose che ho vissuto. E tra queste ci sono i tuoi insegnamenti. Soprattutto quelli che mi hai dato senza volermi insegnare nulla. Come un affetto incondizionato, come il tuo modo di fare. E la tua bontà d'animo, che non sei mai riuscito a nasconderci a noi nipoti. Che ci hai amato più dei figli. A cui hai dato solo il meglio. Risparmiandoci il peso dell'educazione. Comprendendoci. Come quando andai a lavorare un giorno in campagna. E poi mi dicesti che non dovevo farlo. Perché era troppo faticoso. E io pensai, ma come? Mi dici sempre che devo andare a lavorare. Che sono nato stanco e vivo per riposare. E poi faccio un lavoro faticoso e mi dici che non devo farlo. Ecco, lì ho capito. Parte di quello che sei. Ma la cosa più importante non sta nel passato. Sarebbe un gravissimo errore pensarlo. Una grande mancanza di rispetto. Perché tu sei vivo. E finché lo sarai, io non mi voglio fermare a ieri. Perché quello che conta sono i piccoli gesti del quotidiano. Come quello che ho citato a inizio lettera. Tu puoi dare tanto ma soprattutto puoi anche ricevere. Ed è per questo che sono qui a parlarti col cuore in mano e a dirti che ogni giorno mi ritrovo a pensare a cosa avrei fatto io al tuo posto. Io non so giudicare una scelta come quella che hai fatto. Ma di certo ho capito che ne è valsa la pena. e voglio dirti grazie per aver scelto la vita. Perché ci sei e anche se non puoi più parlare hai ancora la possibilità di dire la tua. E questo ha il suo peso. Un giorno molto lontano vestirò i tuoi panni e avrò una guida dentro per monitorare le mie scelte. Perché io e te abbiamo gli stessi pregi e gli stessi difetti. Anche se forse non lo sai ma lo so io perché sto imparando a conoscermi. Anche solo per un istante il tuo pensiero mi dà coraggio. Il coraggio di non aver paura del futuro. E la spontaneità nel vivere il gusto del presente. Perché diciamoci la verità io e te ce la sappiamo godere la vita. a differenza di tante persone che abbiamo attorno. Il gusto del presente è tutto questo semplicemente esistendo. E non sto esagerando. Io non voglio persuadere nessuno. Io voglio solo dire le mie verità così come sono. e adesso voglio dirti un'ultima cosa. Lo voglio fare perché è vero. Perché non dobbiamo starci a nasconderci niente. E con l'età prima o poi bisogna prepararsi a dirsi addio e così è la vita. Abbiamo abbastanza petto e pelo per invitarla a cena per invitarla a cena la morte. Lo voglio dire anche il suo nome. Come fosse un'amica per ridere insieme a lei. Prenderla in giro di quando l'hai sconfitta e sul quando ci rivedremo un giorno in un posto bello come questo e avremo ancora tutta la vita da vivere insieme e per sempre. non preoccuparti mai per me oltre al tuo nome ho la tua forza le tue paure il tuo cuore e il tuo coraggio. Ti voglio bene e io lo so che sono una persona speciale per te e l'ho sempre percepito dentro me lo hai sempre fatto capire e ti ringrazio per quella volta di quando avevo 15 anni e nessuno mi capiva e tu mi hai capito e hai detto a tutti quanti di lasciarmi stare. Grazie di tutto. è la domenica quando non ci sono e mi pensi prendi un caffè mettiti fuori al tavolo e immagina che io sia lì ripensando a quelle domeniche di quando ero bambino e mi raccontavi le tue storie che avevano sempre una morale e quei concetti non li dimenticherò mai. Ti saluto con affetto il tuo degno erede Filippo Ruggeri anche se le tue storie il tuo digno ma dimenticherò mai